Ciao Francia Buonasera Minister Marco Giordano Calciomercato.com Allora complimenti chiaramente per l'esordio è un esordio che ha dato un'anima al Chievo ci racconta come in pochi giorni ha cambiato quella che è una mentalità che comunque si è vista completamente diversa e quali sono state le chiave tattiche che le hanno consentito di fermare il Napoli Allora sull'aspetto diciamo della compattezza di squadra di far ritrovare lo spirito garibaldino quello che avevo da quando sono arrivato al Chievo che ho chiesto faccio complimenti al gruppo, alla squadra che ha cambiato totalmente modo di pensare e di andare in campo negli allenamenti per i primi due o tre giorni non si sono riuscito poi un po' alla volta abbiamo cominciato a crederci su quello che è il gruppo e la squadra quindi oggi abbiamo ritrovato lo spirito Chievo da questa prestazione e da questa compattezza è chiaro che poi il Napoli abbiamo provato a mandarlo al cross più che le diciamo sulle zone centrali perché sappiamo bene che è la qualità che hanno nelle zone centrali e abbiamo difeso anche secondo me il primo tempo molto bene concedendo poco al primo tempo a parte l'azione l'abbiamo data noi sul calcio d'angolo in quell'occasione lì però la squadra mi è piaciuta abbiamo avuto coraggio il coraggio che ho chiesto compattezza e coraggio e chiaramente bisognava stare sempre sul pezzo per 95 minuti come è stato in qualche occasione siamo stati anche diciamo fortunati ma sai a Napoli devi concedere qualcosa a Napoli e sull'aspetto anche del tecnico tattico sappiamo anche dei calcio d'angoli che loro non facendo giocare magari i giocatori come Milik cioè colpitore di testa potevamo concedergli anche calcio d'angoli in più in questo caso qui forse troppi ne abbiamo concessi però alla fine il nostro risultato ce lo prendiamo ma ce lo siamo sudati ce lo siamo battagliati sul campo contro una grande squadra che è Napoli e aggiungo una cosa che da questo pareggio sono convinto che prenderà spunto per mercoledì che farà una grandissima vittoria Ministro ti devo chiedere se un esordio così un ritorno così al Chievo più che in Serie A te l'hai risognato e sul piano al di là di quello che è stato dei meriti della squadra sul piano emotivo cosa ti dà questa domenica che è al 95esimo cosa hai pensato? Sul piano emotivo mi dà la possibilità di continuare a lavorare sotto l'aspetto di lotta di carattere di compattezza e soprattutto anche di qualità perché questa è una squadra che ha anche qualità perché io so che Chievo questa classifica non merita di avere questa classifica per le qualità che ha in squadra quindi adesso bisogna ritrovare più gioco se si può dire oltre alla compattezza e al carattere bisogna trovare più gioco perché noi abbiamo anche dei giocatori in campo che sono di livello alto e che possono far male a chiunque in Serie A aspettando magari qualcuno che rientri dall'infortunio ciao mister buonasera una curiosità hai cambiato sistema di gioco in corsa durante il secondo tempo poi dopo cinque minuti ti sei quasi pentito perché la squadra si era abbassata è così? oppure hai anticipato una mossa che magari avresti dovuto fare successivamente e quindi ti sei trovato poi costretto a metterti con i cinque dietro no allora era un po' programmata perché sappiamo bene che quando giochi contro la grande squadra alla lunga c'è il Napoli c'è la grande squadra ti fa gol non c'è niente da fare però c'è un fatto che io oggi ai ragazzi gli avevo detto di puntare ad essere la sorpresa della giornata gli avevo detto questa ragazzi perché sappiamo bene che tutti ci davano per spacciati contro il Napoli e avere questa forza mentale di puntare ad essere la sorpresa l'abbiamo fatto a metà anche se su me è una sorpresa comunque veniamo fuori con un punto e sull'aspetto tattico era già in programma di metterci a cinque però c'è stato un giocatore che non ha capito che doveva far salire un po' di più i centrocampisti e i quinti perché schiacciando così tanto tante volte sappiamo di concedere dei cross però comunque alla fine dovevamo essere un po' più alti con i quinti che invece in questo caso qui qualche giocatore dietro si riteneva dentro questa è stata un po' se posso dire una cosa che bisogna migliorarla ma comunque non vado a vedere sulla distruzione precedente cioè quando hai fatto 4-2-1-2 mettendo fine sì ma no ma io l'avevo detto già fra cinque minuti devo cambiare Meggiorini perché aveva speso tanto e ci metteremo 5-3-2 ma io l'avevo già annunciato quindi non l'ho voluto far subito perché speravo che Meggiorini mi durasse un po' di più in questo caso però il 5-3-2 è una squadra che l'ha già fatto per un mese l'unica cosa del 5-3-2 che abbiamo fatto secondo me bisogna un po' alzare sia i centrocampisti che i quinti invece tenerli troppo bassi era l'unica cosa che mi sgolavo dalla panchina perché sai portarli sempre in area di rigore oggi è andata bene perché il palo o la parata del Sorrentino che ha fatto veramente il Sorrentino che ci aspettiamo e che aspettavamo questo però bisogna migliorarlo durante la settimana ragazzi fatemi partire dalle certezze che oggi sono tante mister finora Pellissiera aveva giocato titolare solo a San Siro contro il Milan è anche lui una certezza da cui sei ripartito io in conferenza stampa avevo detto che bisognava ripartire dallo spirito chievo e quindi che ogni giocatore che ho parlato io gli ho chiesto questo ad ogni giocatore di ritrovare questa compattezza di squadra di giocare per il compagno di darle esempio e per i giovani che possono anche sbagliare qualcosa in più perché bisogna dare anche la possibilità di sbagliare i giovani perché quando è entrato Kine che di solito Soffien da quella posizione lì di solito fa gol cioè il tiro da fuoriare che ha fatto verso la fine Soffien è un giocatore che ha grandissime qualità però Pellissier è il capitano ed è il simbolo della ripartenza dello spirito di Chievo e oggi abbiamo ritrovato questo da Pellissier a tutta la squadra Mister L'ultimo vorrei sapere che atmosfera c'era nello spogliatoio se hai avuto qualche confronto con qualcuno se qualcuno ti ha mandato messaggi particolari e in particolare se hai sentito il presidente No messaggi nello spogliatoio i ragazzi erano comunque contenti perché sapevano cioè che dovevano venire qui a Napoli e anche saper soffrire quindi questa è una cosa positiva abbiamo saputo soffrire e siamo stati anche di qualità in alcuni momenti della gara sul discorso del presidente c'è poco da dire fra poco l'abbraccerò con molto volentieri se lo merita lui se lo merita Chievo ma ce lo meritiamo tutti quanti noi per il lavoro fatto in questi 15 giorni e abbiamo appena iniziato grazie grazie ragazzi in bocca al lupo per mercoledì grazie a tutti